Si è svolta presso il pala di Andrè di Ravenna la seconda tappa dell'edizione 2024 di Banca Generali, un campione per amico. 350 i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città che hanno avuto l'opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castro Giovanni. L'occasione per imparare i veri valori dello sport. Per noi è quello che vogliamo, vogliamo che i bambini si avvicinino allo sport. Non importa quale sia, se scelgono Ciccio, se scelgono Andrea o se scelgono Panatta, per noi è uguale. L'importante è che si avvicinino allo sport perché credo che lo sport è forti campioni di vita, non solo in campo. Lo sport anche se non arrivi al giornale nazionale ti insegna tanti valori e tante cose, ti insegna a stare in gruppo, a sostenere le persone, i tuoi compagni. Io credo che lo sport sia molto importante per tutti noi. Fate sport perché lo sport aiuta la salute, ma soprattutto è socialità, è stare insieme. Viva lo sport, viva questi grandi campioni e banca generali che ha proposto l'evento.